Non sono bastate le due ondate di sabbia che si sono verificate fra il 3 e 7 giugno scorsi. Il servizio meteo dell'Unione Europea Copernicus ha infatti reso noto che tra oggi e domani è prevista una nuova ondata di polveri del Sahara, che raggiungerà l'Europa sudorientale e il Mediterraneo orientale. Le particelle presenti in area di diametro aerodinamico inferiore o uguale a 10 micrometri raggiungeranno il valore di 100 milligrammi. Ciò comporterà chiaramente una pessima qualità dell'area, oltre a possibili cieli nebbiosi. Per Mark Perrington, del servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus, il trasporto di sabbia verso l'Europa non è insolito. Le osservazioni stanno mostrando un aumento dell'intensità e della frequenza di questi eventi, e per alcune zone del continente, mostrando l'importanza di un costante controllo della nostra atmosfera, per comprendere come la qualità dell'area potrebbe cambiare in relazione a questi episodi.